Stai registrando? Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi faremo What's in my bag What's my bag 2024 Allora, prima cosa facciamo vedere lo zaino Ah, dunque scrivetemi, mettete like se no Arrivo a casa vostra e butto questo zaino sopra la testa E iniziamo con Lo zaino Molto semplice e classico Preso su Shane 15,90 euro Costa pochissimo, guarda Ehm Ehm Ehm, niente Facciamolo vedere Facciamolo, però così non si vede bene Quindi Stoppiamo e Aggiustiamo Ok, perfetto Adesso si vede molto meglio Lo so che i miei video Durano 5-12 minuti Comunque Faremo sempre delle parti Non lo so, speriamo di no Comunque iniziamo dalla tasca Questa iniziale Alla prima tasca ci stanno Dei fazzoletti Se magari mi devo soffiare il naso Mi devo lavare Asciugare le mani Non c'è la carta igienica E Si può Rimediare Con i fazzoletti Adesso Apriamo Qua Poi dopo la parte grande Si vedrà Faccio sacco di rime Oggi Non lo so Posso fare la popola Non scherzo Ve lo fare la rima Ok Dove ci stanno ben due tasche La prima tasca Ci sta Sto prendo quell'altra Che sono Che sono Ok Ok Ci sta La borraccia Andate Quello bene Acqua naturale Usa Forma di Rossetto Molto semplice A chiudere Molto semplice Questa tasca Vi dico Già una cosa Non c'è niente Perché Se no Non c'entrava La borraccia Dove aver visto Quest'altra Parti Iniziamo Con le tasche Frontali Iniziamo Con questa Che ci stanno Delle cose Che non c'entravano Nell'assuccio Cioè Il rigalo Le penne colorate Che dopo Finisce colore Inizia un altro Molto bello E Il zeperino Con le tabelline Che se magari Me le scordo Siamo qua Se tali Li metto dentro Che sembra Un tau Ok Adesso Iniziamo Con Questa Quella Grossa Cotto Questa Perfetto Non c'è Solo Allora Per prima Cosa C'è Che non Messo C'è Un quaderno Degli esercizi Sempre preso Su Shane Questo qua Che viene Dalla Scena Con tutte Le tabelline Con le addizioni Sottrazioni Divisioni E moltiplicazioni Poi I compiti Matematica Che vedi Niente Poi Poi Delle esperienze Di matematica Scienze Tecnologia Matematica Natila E qua Ci sono I quaderni Che li voglio Favere Perché sono Super Belli Siamo Con Il quaderno Dei disegni Con Nicola Un altro Quaderno Dei disegni O strappafogli Video Si Quaderno Di matematica Quaderno Di musica Con Gli spartiti Il quaderno Di italiano Con Sushi Che Purtroppo Sta quasi Finendo E quindi Una persona Che vedremo Sempre dopo E un disegno Che ho fatto Da scuola Ah E nuovo E questo Ah E al ecotale Scusate Ho fatto questo E c'è scritto Devi sapere Ciò che vuoi O prenderai Ciò che viene Sto accendo il video Nonna Ah scusa Hai chiamato Papà tu Si No Non ho chiamato Faccio un attimo Il video Allora Vabbè Questo quaderno Bellissimo Ok Con il glitter Ah E dentro Ci sta Il Diario No Che Deve Mica Il codizionista E Un manga Perché se Magari No Io leggo Questo Pokémon 4 La grande avventura È molto bello Leggetevelo È molto bello Poi L'astuccio Adesso Punta L'astuccio Con delle meraviglie Cioè Tutti i gadget Belli Qua dentro Riuscire che Un'altra Astuccia Un bocchetto Schifo Cioè Questo L'astuccio Della Seven Pesa Inizio Scuola E poi Ci sono Alte Taschine Con Alte cose Che non C'entravano Una Colla Panda Molto Bella Attacca Super Bene Poi Gomme Profumate Della Legami Della Legami Milano E Un'altra Gomma Profumata Della Legami Milano E questo Che è Un altro Ragazzi Questo Non lo so Che mi L'ha Giunto Ah Il flato Il flato Che noi Facciamo Musica Quindi Ci sono Il flato Profesor Busacca Ne vuoi dare Sfiglia Ti prego E ragazzi Che devo dire Basta È finito Adesso Devo rimettere Tutto in ordine Poi vi dico Tutti Dove Gli ho presi Quanto è durato Sei minuti C'è stato C'è stato 7 minuti Adesso Mi dirò Allora Questo L'ho presso La carta E prendo Questi Questo Qua Qua Mettere Costi Una legami Che No 32 Quindi Chi me l'ha Tagliato Mamma Non guarderei Questo Vabbè Non dico Dove L'ho preso Comunque L'ho preso Tutti Nella cartola Delle cartolerie Per esempio Qua Nettuno C'è 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 Carte Penna Che Ha un sacco Di cose Però Costa Tanto Però È bello Se Magari Possiamo Di Una Paghetta Spendetela A Carte Penna Nettuno Via Via Sant'Anna Cucca Adesso Passo Tutto Quindi Stop Il Ecco Fatto Ordinato Lo zaino E Ragazzi Spero Che Questo Video Vi Sia Piaciuto Mettete Un Like Iscrivetevi Al mio Canale Youtube Benedetta Papacoda E Ciao